I carabinieri di Napoli si fingevano clienti telefonando a una società di noleggio di auto a lungo termine e segnalavano problemi al veicolo. Così in poco tempo ottenevano l'auto sostitutiva prevista nei casi di guasto, incidente o avaria. Ma una volta ritirate le macchine da agenzie convenzionate sul territorio, i veicoli non erano più restituiti e probabilmente erano venduti all'estero. I militari hanno perciò documentato attraverso l'appropriazione dei dati delle vetture e di quelli dei clienti almeno 10 truffe di questo tipo e arrestato due pregiudicati. Si tratta di Lucio Musella di 27 anni e Giorgio Romano di 38, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri li hanno fermati durante l'ennesimo colpo individuandoli all'aeroporto di Napoli. I due erano appena usciti da una delle società convenzionate dopo aver ritirato un fiammante veicolo con il solito raggiro.